Andrea, c'era una volta un gruppo numeroso che andava al Mappé Stadium l'ultima giornata di campionato a piedi da Sassuolo e il gruppo si è ristretto come lavandolo in lavatrice, adesso siete rimasti in due. Eh va bene, alla fine l'importante è rinnovare questa tradizione che è una sorta di rito scaramantico, diciamo così. E ogni anno, speriamo il prossimo anno perché significa essere ancora in Serie A, quindi ho poi chi c'è, c'è. Noi, io e Marco ci siamo. Marco, più che scaramanzia diciamo ringraziamento, una volta usavate questo vocabolo. Certo, ringraziamento perché abbiamo conquistato il decimo anno consecutivo in Serie A che è un traguardo incredibile e quindi ci sembra al minimo, al termine del campionato, festeggiare e ringraziare. In particolare quest'anno lo dedichiamo al nostro patron Squinzi che proprio ieri avrebbe festeggiato il compleanno, quindi un pensiero in particolare a lui. Grazie. Grazie.